Vi voglio far conoscere una serie di canne di Casa Colmich, le Full Shot, come qualità prezzo eccezionale, montatura acid, anelli SICK. Queste canne sono adattissime alla traina con il vivo sotto costa e alla traina con le artificiali, disponibili in diverse misure e diversi vibraggi. Io questa sera ho adoperato le 12 vibre, adesso ragazzi vi faccio vedere che cosa sono in grado di fare le canne Full Shot a traina costiera. Guardate che cattura, una bellissima spigola, davvero un bel pesce, catturato con le canne Full Shot. Mi raccomando ragazzi provatele, guardate che risultati. Grazie.